Sciopero della scuola venerdì 20 maggio. In regione 60.000 docenti e 20.000 addenti amministrativi, tecnici e ausiliari incroceranno le braccia per chiedere al governo maggior attenzione ad un comparto che dal 2008 vede solo tagli. È inaccettabile che dopo 7 anni un contratto dei lavoratori della scuola, ma come qualsiasi altro lavoratore, non sia stato rinnovato. I lavoratori della scuola vedono il carico di lavoro aumentato negli anni e sentono di aver dato tutto il possibile. I docenti e il personale si sono fatti carico di tutte le situazioni impossibili, le hanno gestite ugualmente e sono riusciti a far funzionare la scuola ogni mattina facendo della buona scuola, quella vera. Il mondo della scuola sciopererà in tutta Italia. In Veneto la manifestazione regionale andrà in scena a Venezia dove ci sarà anche un incontro con la dirigente regionale della scuola. Noi proponiamo innanzitutto che vengano definite le sedi del Veneto e venga stabilizzato anche da parte dei docenti, quindi praticamente in ogni posto che non è coperto venga garantita una dirigenza scolastica per quanto riguarda i dirigenti. Da quando è partita l'iniziativa governativa della buona scuola, in realtà, dicono i sindacati, non è cambiato niente. Non abbiamo certezza per quanto riguarda i posti, la supplentita non è venuta meno, non riusciamo ad aprire le scuole, problemi per tutto il personale ATA dai ruoli alla possibilità di sostituire gli amministrativi, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici sono altrettanto in difficoltà. Direi che di buono c'è pochino.